Riparte anche la Serie A1 del basket, nel segno dei quintetti veneti con Verone Venezia che si aggiudicano i rispettivi impegni casalinghi, ma è stata anche la giornata delle neopromosse. Prima gli stessi scaligeri di Alessandro Ramagli, che vent'anni dopo la loro ultima esperienza ai massimi livelli, sconfiggono un avversario di spessore come Brindisi, al termine di un tempo supplementare scatenando l'entusiasmo dell'AGSM Forum. Poi Scafati impegna fino alla fine al tagliercio la Reier Venezia, che si impone di 11. Avanti di 20 lunghezze, all'inizio dell'ultimo quarto, gli Oro Granata, trascinati da uno strepitoso Derek Willis, hanno dovuto fare i conti con la rimonta dei campani, grazie ad un parziale di 12-0, ma a questo punto dal roster veneziano è emerso un nuovo protagonista, Amedeo Tessitori, che ha riportato avanti i suoi di 14, eppure gli ospiti sono rimasti ancora lì a combattere, ma il margine e il tempo ancora disponibile hanno sancito che i primi due punti della stagione vanno alla squadra di De Raffaele. Prima di sentire il tecnico veneziano, una nota stonata nella giornata trionfale delle Venete, Treviso nell'anticipo e Trieste franano rumorosamente in casa, mentre Trento viene punita a Tortona da una Dertona che anche in questa stagione potrebbe essere la mina vagante del torneo. Direi che dobbiamo dividere l'aspetto tecnico dall'aspetto emotivo, perché l'aspetto emotivo della squadra è stato sicuramente positivo, abbiamo combattuto per tutti i 40 minuti come ci eravamo prefissati, rientrando anche da meno 17 credo a meno 10, quindi comunque sono segnali di una squadra che non va sotto mentalmente, ma cerca di giocare possesso dopo possesso, soprattutto contro queste squadre che hanno oggettivamente un livello per noi complicato in questo momento. L'aspetto tecnico invece è quello che dobbiamo migliorare, perché dobbiamo prendere da questi confronti tutti gli input per migliorare in palestra. C'è ancora da fare molto, soprattutto nella conoscenza reciproca, penso che tante palle perse ci sono state dovute anche proprio alla conoscenza, quintetti un po' particolari che gioco forza vengono fuori, però devo dire che c'è stata un'ottima attitudine, 24 assist sono certamente un buon viatico e questo è un elemento importante, anche perché tanti sono venuti fuori dalle mani dei playmaker e alla fine ha avuto anche una buona intensità nel cercare di contrastare la fisicità, perché Scafatti ha giocato sempre molto grande, noi siamo andati spesso molto piccoli. Andiamo avanti e continuiamo a lavorare utilizzando questa ultima settimana piena, prima poi di iniziare il doppio impegno che ci vedrà allenarci meno e giocare sempre.